Oh, viva! Forse lo abbiamo seminato. Ma insomma, che cappero è quella cosa? Non ne ho idea. Ma ora che Barba è al sicuro, dobbiamo escogitare un piano. Tendiamogli una trappola e attiriamolo in quel vecchio barile. Ottima idea, ma per una trappola serve un'esca. Da che cos'è attratto l'ululatore? Non sappiamo nulla sul suo conto, tranne che ha le pulci e... Beh, che ulula? Sam, ascolta. L'ululatore risponde. Spegnilo, spegnilo! Scusa, sono ancora un po' scossa. Si è rotto, non funziona. La registrazione era l'unica possibilità che avevamo per attirare l'ululatore. Un momento. Quei cani della prateria lo imitano molto bene. Forse loro possono aiutarci. Sì, andiamo da loro, così dimostrerò a tutti di che pasta è fatta questa coda. O qualunque altra cosa abbiate in mente. Sam, raduna i cani della prateria. Prepariamo la trappola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.